Prosegue la rassegna letteraria Cervo in blu d'inchiostro, questa volta in trasferta a Sanremo con Edoardo Albinati, vincitore anche del premio Sega. Sì, esatto. Infatti sabato 4 maggio un prestigioso appuntamento al Palafiore a Sanremo alle ore 17 con il grande ritorno nella nostra meravigliosa riviera di Edoardo Albinati che torna a presentarci il suo ultimissimo romanzo, Cuori Fanatici, edito da Rizzoli. Edoardo Albinati aveva vinto il premio Strega nel 2016 ed era stato grande ospite a Cervo in una bellissima serata con Roberto Vecchioni sulla piazza dei Correllini e sabato sarà intervistato da Stefano Petrocchi che è il direttore della Fondazione Bellonci, cioè la fondazione che organizza da molto tempo il premio Strega e dalla professoressa Patrizia Milanese del liceo classico Cassini di Sanremo.